L'ordine del giorno che verrà presentato in Consiglio per quanto riguarda gli orari della Movida Pescara, soprattutto nel weekend e poi negli altri giorni della settimana, mezzanotte e mezza, luna e mezza, ci sono delle polemiche come sempre in questi casi, soprattutto da parte delle associazioni di categoria. Sì, sento delle polemiche come avviene ogni anno. Io penso che queste polemiche facciano male alla città, perché quando si dice che Pescara è sotto il coprifuoco non si fa un favore alle attività commerciali, perché Pescara non è sotto il coprifuoco. Pescara è una città che da oltre un mese e mezzo ha i dati del contagio più bassi d'Italia, è una città che dopo essere passata in zona bianca si riapre in maniera equilibrata perché è giusto trovare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze di una città, perché in città ci sono gli operatori commerciali che hanno interesse a rimanere aperti la sera e anche la notte, ma nel contempo ci sono anche i residenti che hanno diritto a dormire e c'è una città che di giorno lavora. Quindi trovare un equilibrio, come è sempre avvenuto, credo sia importante e questo equilibrio deve essere trovato con la pacificazione di tutti, non creando scontri continui che fanno male alla città, lo ripeto, perché dire che tenere aperti i locali il venerdì e il sabato fino all'uno e mezza vuol dire essere in coprifuoco, vuol dire una cosa inesatta, perché mi sembra che fino all'una e mezza sia un orario consono a giugno, poi l'ordinanza vale per un mese, a luglio il discorso potrà essere diverso perché si va verso la stagione estiva, nei giorni feriali arrivare fino a mezzanotte e mezza vuol dire permettere di andare a cena la sera, permettere di andarsi a prendere un aperitivo, di fare anche più tardi, però poi a luna la gente va a dormire e quindi soprattutto nelle zone dove c'è maggiore antropizzazione c'è necessità di avere un momento di tregua.